Ciao, mio nome è Marco Starr Cusimano, Luca Terracchio, 24 avrilio 2018, categoria intermedia, questo è il primo valore della qualificazione del francese 2018. Ok, cerchiamo per il standard, due barbelli olympic, 20 kg, e due platti, e due platti, 10 kg, per l'altra parte, 20 kg, due platti, 10 kg. No, non si vede, non si vede, non si vede, lo metto a fuoco. Le corde, uno, due. Fai il bip comunque, te lo dico all'orso. Ma Dario, Dario ce l'ha. Siete pronti? Si fa 3, 2, 1. 3, 2, 1, via. No. Si filla, vedi. CL32 Grazie a tutti. 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 Vai Marco. Grazie a tutti. 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 Vai Lu. Grazie a tutti. Un minuto ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 10 secondi, vai. 5, 3, 2, 1... E...